La violenza di genere si combatte anzitutto con una rivoluzione culturale e il messaggio che hanno lanciato le donne del centrodestra durante l'incontro Chiamami Semplicemente Amore è andato in scena al carcere borbonico e moderato dal direttore di 8 Channel Pierluigi Melillo. Un momento di riflessione sul tema approfondendolo sia sul versante giuridico sia su quello sociale e anche su quello lavorativo e affidando gli interventi rispettivamente ad Anna Maria Vecchione, Sonia Lombardo e Maria Elena Javerone. Probabilmente ci sono troppe leggi e il sistema si sfalda nel momento in cui la donna dopo aver denunziato deve essere processata e dico deve essere processata perché il nostro sistema giuridico processa ancora la donna che dovrebbe essere una vittima e non processa l'uomo e qua nasce il problema. Effettivamente si fa ben poco soprattutto per le case rifugio, i centri di ascolto, molte donne non denunciano per vergogna, per timore oppure perché si illudono che magari l'uomo possa cambiare perché sono legati magari dal fatto che ci sono dei bambini e tutto il resto, però questo deve cambiare rutta. Le donne continuano ancora ad avere difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro e molto spesso ottengono dei contratti precari. Non è un elemento secondario perché tantissime donne sono costrette a rimanere al fianco di uomini violenti perché non hanno un'indipendenza economica e quindi non hanno il coraggio di rifarsi una vita.